Oh santo barco, basta, basta, basta! Pronto? Sì, pronto. È la trentaseiesima volta che mi chiami, basta! Cosa vuoi? Non so, ma aspetta, ma è importantissimo, ma è l'ultima volta! Ma ridimelo l'ultima volta! Le so le regole! Te l'ho riduta mille volte, le so! Le regole del giveaway di Dara Sons. Allora, per partecipare al giveaway devi essere iscritto al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook che trovi in descrizione, mettere mi piace a questo video commentando qua sotto con la scritta PARTECIPO! Inoltre, cosa fondamentale, devi condividere questo video su Facebook impostando la privacy come pubblico, mettendo l'hashtag giveaway a sua bussozza, altrimenti noi non vi vediamo! Perfetto, perché se non condividono non ci si vede a nessuno mai! Inoltre, bisogna avere 30 iscrizioni per far partire il giveaway! No, perfetto, le sai tutte, però ti sei scordato un piccolissimo particolare, perché se chi si iscrive a un canale YouTube può fare un video intitolato giveaway a Zobu Souls dove parla di noi e del nostro giveaway! Tu lo sai che se arriveranno, arriveranno i peggio insulti, vero? Se lo fa, se lo dovesse fare, fammi parlare, il tuo canale, il suo canale verrà citato nel video dell'annuncio del vincitore e la partecipazione varrà il doppio! Sì, ma avrà il doppio le possibilità di vincere praticamente! E' bravo, e va bene anche un video su Facebook, va bene anche registrato col cellulare, non ce ne frega assolutamente niente! Eh certo, infatti io mi guarderò il video da 144p e perdo altri 8 di O3 ovviamente! Eh vabbè, che te frega, sto più tranquillo adesso, so che sai tutte le regole, non mi preoccupo più, va bene? Oh, non ti chiamo più, promesso! Oh, alleluia! Non ti scordare nulla però, mi raccomando, perché se salti anche solo una di queste... Sì, mi dispiace adesso se torna alla mia vita, devo guardare quattro puntate di Game of Thrones in un'ora! ...dovevo guardare questa cosa perché... ti guardo, va bene! Sì, sì, ciao, 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 ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, 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 ciao!